Non vediamo l'ora di affrontare Broni sabato, anche perché veniamo da due sconfitte, quindi dobbiamo subito ritrovare il feeling con la vittoria, quindi sarà una partita importante da vincere e dovremo approcciarla nel miglior modo possibile. Broni ha fatto finora bene, a parte magari domenica dove ha fatto il primo passo falso, forse inaspettato con la Spezia, quindi loro sono una squadra che vive di entusiasmo, comunque gioca bene, ha le trastraniere che stanno facendo bene, e che si sono collegate al gruppo di italiane che era lì, che sta dando buoni risultati, quindi sarà una partita da affrontare con il giusto piglio e da portare a casa. Gli aspettiamo numerosi che continuano a seguirci, che continuano a sopportare le nostre ragazze e sperando di regalare loro una buona pallacanestro e anche possibilmente un bello spettacolo.